Presidente, ogni estate a Gizzeria si rinnova un appuntamento che richiama tanti appassionati da tutto il mondo, cioè quanto è importante sostenere manifestazioni del genere, anche perché non esistono, no, diciamo, sport minori, ma questa è la dimostrazione proprio che uno sport come il kitesurf riesce a portare su queste spiagge appassionati da tutto il mondo. No, no, assolutamente, intercettare attività, anche giovanili, che coinvolgono ovviamente non solo i nostri territori, ma allargono le nostre esperienze a territori addirittura mondiali, non può che essere d'aiuto per la nostra terra, ci dà grandi opportunità, opportunità di fare sport, di fare turismo, di fare e di mettere in evidenza le bellezze del nostro territorio. Quindi complimenti a chi ormai da anni organizza questo evento, dà questa opportunità, ripeto, alla nostra terra, alla nostra Calabria, che dobbiamo saper sfruttare sotto diversi aspetti, sicuramente quello sportivo, sicuramente quello turistico, sicuramente quello promozionale. Perché è un'iniziativa che nasce appunto da un privato, quindi è importante che tutte le istituzioni concorrono a sostenere? Assolutamente sì, noi siamo fautori ovviamente di sinergie, sport e salute da questo punto di vista è ovviamente capofila di quelle che sono gli enti sportivi istituzionali, per cui ritengo che sicuramente poter mettere insieme tutte le istituzioni, non solo sportive, ma anche quelle amministrative, non può che far crescere dal punto di vista sportivo la nostra Regione. È un appuntamento importante che ritorna ogni anno e che gode del sostegno anche della Regione, di altri enti istituzionali qui presenti. Può darci qualche dettaglio anche dal punto di vista tecnico su come si svolgerà la manifestazione? Sì, è una manifestazione che già riusciamo ad organizzare da diversi anni, sempre con il contributo della Regione Calabria, che crede molto in queste attività. Infatti sono tantissimi i turisti che arrivano, ma soprattutto c'è un indotto con tratleti, famiglie, coach, staff di migliaia di persone. Quindi invito tutti a venire a Gizzeria, all'Angloose Beach e ringrazio chiaramente la presenza del Presidente oggi in questa conferenza stampa di presentazione, oltre che dall'amministrazione comunale di Gizzeria. Grazie. Presidente, ogni anno sulle spiagge di Gizzeria arrivano da tutto il mondo appassionati di kitesurf, quindi oltre ad essere un'occasione importante dal punto di vista sportivo, questa manifestazione rappresenta anche un volano dal punto di vista del turismo. Sì, sono molto contento che questo avvenga, soprattutto grazie alla lungimiranza, all'intraprendenza di qualche giovane imprenditore che si è inventato questa attività qualche anno fa e l'ha trasformata in un'attività di eccellenza. Oggi ci sono i mondiali qui, quindi 87 atleti da 27 paesi del mondo, tutti i continenti rappresentati in Calabria, perché la Calabria si possa mettere in vetrina su molte trasmissioni sportive di tutto il mondo, quindi sono molto contento di questo. La Regione cerca di stare vicino a quanti organizzano questa attività, sostenendone in qualche modo in parte le spese, ma è un investimento importante perché è un investimento davvero di promozione territoriale.